Quale luogo più adatto per dar vita ad un annullo filatelico se non a Montaguto in Irpinia? Un bollo speciale in uno dei borghi più belli delle aree interne, in cui proprio quest'anno si festeggia il quindicesimo anniversario del monumento alla famiglia dedicato a San Pio di Pietrelcina e ai suoi genitori. È un modo per sottolineare l'importanza di essere vicini concretamente ai piccoli comuni e questo sia ad esempio per gli enti e le autorità che possono e devono in questo momento fare tanto a favore delle piccole comunità, perché lo ripetiamo, i piccoli comuni, ma soprattutto chi ci vive nei piccoli comuni, sono le sentinelle di questi territori. Una cartolina speciale che per poste italiane ha un grande significato. Il progetto dedicato ai piccoli comuni è proprio fortemente voluto dall'amministratore delegato Matteo Delfante proprio per manifestare la vicinanza che poste italiane ha nei confronti dei piccoli comuni e dei suoi concittadini, offrendo non soltanto prodotti molto più innovativi e digitali, ma anche mantenendo un po' vive le tradizioni con il servizio filatelico, per esempio, che è uno dei prodotti che cerca di riscoprire tutte le realtà, le bellezze locali e storicizzare, creare un po' una storia per mantenerla e durarla nel tempo.